A Maddaloni la questione ambientale è sempre all'ordine del giorno, la situazione è divenuta negli anni insostenibile, ne parliamo con Gaetano Esposito, coordinatore cittadino del PD. Che cosa state promuovendo come partito per cercare di risolvere un problema che sta davvero penalizzando i cittadini maddalonesi? Le questioni sono tante, purtroppo affliggono il territorio maddalonese ma il casertano un po' in generale, a partire dalla questione dei rifiuti illegali, dei rifiuti tossici, delle discariche abusive, ma tra questi sicuramente uno dei grossi problemi è quello legato alle cave e ai cementifici. Proprio in questi ultimi mesi si sta consumando l'atto conclusivo di un'ennesima tragedia che colpisce la città di Maddaloni, Nonostante il PD, in verità con un forte supporto di tutte le associazioni del territorio e dei partiti di opposizione, sta mettendo in essere l'impossibile per poter ostacolare quello che potrà essere il disastro definitivo del territorio maddalonese. Nonostante che questa zona sia stata considerata zona critica, quindi zona nella quale non è possibile più fare nuovi cementifici, i poteri forti riescono sempre ad aggirare tutti gli ostacoli e sono riusciti con un escamodage a far rientrare l'apertura di una nuova cava che deve venire sul lato opposto della cava cementi resistente come un ampliamento dovuto per la ricomposizione ambientale e questa nuova cava sarebbe un ampliamento di quella preesistente perché loro la interconnettono attraverso un foro, un tunnel che connette le due cave. Proprio su queste questioni in Consiglio Comunale il gruppo PD ha tenuto banco con una battaglia molto accesa, addirittura il capogruppo è stato anche aggredito. Sì, voglio dire, noi ci siamo posti con tutte le nostre forze in Consiglio Comunale, siamo riusciti a spuntare la prima seduta di Consiglio Comunale dove ci voleva la maggioranza qualificata ma l'amministrazione non curandosi di ciò ha convocato il Consiglio Comunale in seconda convocazione laddove era consentita anche la maggioranza semplice, quindi dei presenti. D'altronde in questo Consiglio Comunale non si capisce per quale ragione erano presenti tutti gli operai della cementi e questi operai venivano incitati dal sindaco contro tutti coloro che non avessero approvato il protocollo d'intesa con la cementi e addirittura da questo è scaturita una rissa e un consigliere Alessandro Sforza del PD è stato anche aggredito. Queste cose noi le abbiamo manifestate al prefetto, stiamo predisponendo e a breve faremo anche degli atti conseguenziali e ad altri organismi preposti pure perché ci sta anche un collegamento con un'altra situazione che riguarda la cava Caturano. Non capisco per quale fortuita coincidenza nello stesso Consiglio Comunale Caturano rientra stranamente in amministrazione dopo una forte rottura con il sindaco Cerreto e nello stesso Consiglio Comunale fornisce a Cerreto i numeri necessari per poter ripeto approvare questo scelerato protocollo d'intesa con la cementi e tra virgolette voglio dire in cambio riceve l'approvazione del riconversore della prova a cava una cava che era un costo perché non aveva fatto la ricomposizione ambientale quindi doveva pagare dei soldini per mettere a posto la situazione adesso diventa praticamente una proprietà che è stata riconfortita in F10 e in D9 non voglio entrare nei tecnicismi ma che dal Consiglio Comunale in poi oggi vale almeno 10 milioni di euro. Tutte queste situazioni alquanto strane e curiose noi le rappresenteremo siamo costretti a rappresentarli alle istituzioni preposte pure perché dal punto di vista politico non riusciamo ad ottenere risultati quando si combatte contro i muri di gomma contro a dei poteri così forti. unitamente a questo ci sono anche dei fortissimi danni erariari che stiamo denunciando come per esempio il fatto che nel protocollo d'intesa con la cementir non si chiede che la cementir paghi tutto l'arretrato quindi si abbona a cementir 1.400.000 euro non si tiene conto che cementir è incompatibile col poliglinico quindi tutti i milioni di euro spesi per costruire il poliglinico probabilmente andranno in fumo non si chiede neppure che Caturano metti a posto la situazione che c'è sulla cava con capannoni abusivi con ordinanze di demolizione e mai abbattute e tante altre cose.